e si vede come che è che giuntano lì, le cagliate, le cose che giuntano lì e poi proviamo a un mondo come a livello nazionale e internazionale come il PTG sta con la plataforma repubblicana, dopo un pochino portanto sempre nel tempo vi racconta a tutti come che è che non passa da qui a boccato e pure rappresenta i membri che stanno lì e poi parlo come, che è che non abbiamo fatto, presidente e leader del partito PTG e abbiamo dato una declarazione pubblica per contare come è un grande partito e che è venuto in Africa di fuori, giuntano i seri membri ci sono che non ho parlato in tempi, ci sono più di 20 partiti politici che giuntano per fare collegazione, perché la nostra unione deve fare forza e con unione che non può ricompo a terra è che manda simbolo per l'allianza per la plataforma repubblicana e sono qui chiamati, giuntano e giuntano è che mandano decidere come tutto il mondo sta a volta del progetto un progetto vencedore se non dividi non sta per rivolto nella meta di oggi ma non solo è da questo principio non ho parlato come per l'allianza che ti ha revinto qui principio che ti ha notato è questa plataforma repubblicana per ganare le elezioni legislativi e poi a presidente Omar Sissoko imbalo rumo al secondo mandato rumo al presidente Omar Sissoko imbalo viva viva al secondo mandato viva sono contento ma molto obrigado non senti un mostrato di energia mi si si mi sono riusa tutti quelli che sono disponibili per il mio I like per il suo carico ma non senti un po' ma non senti un po' ma non senti un po' No, 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 no. No, 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 no delegati, con la fianza a due partiti che sono completati, che stanno facendo triste, che hanno cominciato il progetto anche, e vim annunciare, per chiamare tutti i miei amici altri partiti. Sendo così, io ho fatto un amico secretario-gerale del Partito Madem, la persona di José Carlos Macedo, la missione di Stalina rappresenta Madem, forte parla per lui, forte parla per sei Carlos. Ok, il ministro di Finanza, il dottor Elidio, è stato lì per rappresentare la Plataforma, e Castelli è stato lì per rappresentare la PRS, queste tre persone, a 11 che lo rappresentano, è coligazione, ossia, mi si fa la Plataforma Republicana. El Stris è stato lì, come Presidente del Partito PTG, che è stato lì, non solo nel nome del PTG, ma anche nel nome di Coligazione, Plataforma Republicana. Non ho chiesto un salvo di palma per il dottor Elidio del Partito PT. Viva Biombo! Viva Biombo! Viva Biombo! Viva Guinea-Bissau! Ok! Silvana com wissen, il Celi, e il rappresentare il partito di PSL, è il membro, il Presidente del Conselho di Giordizia, non ho chiesto un' ruffo di palma per il Si muove a terra a once, ha più di 10 anni, è lì recentemente come ministro di Finanze, ha 2-3 anni, infelizmente che il salario ha stato pagato, tempo e ora. Viva il paolo, il salve il paolo il paolo. E mangiare di spesa, di funzionamento, di hospitais, di mangiare del Ministro dell'Interior, di Forza Armata, sono come si dice, è solo salario. E c'è qui sta a parlare di spesa variabile, che è maggiore di salario. Viva il dottor Elidio Viera Dè! Viva il dottor Elidio Viera Dè! Viva! Ok, insomma come ho parlato lì, come sta lì maggiore di 20 partiti, sono grandi rappresentanti e dirigenti dei partiti, che vengono presenze, è atto. Ma loro rappresentano tutto, la plataforma, la rupostra, non come guinè. Pertanto, il lavoro va a decorare del seguente modo. Primeiro, non è pedi, no armone, il companheiro di lutta, il segretario nazionale di MADEM, di un'azienda di MADEM. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti per l'Amba, uno dei vicepresidenti del Partito PTG. Grazie a tutti per l'Amba. 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 Grazie a tutti. 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 Un ministro, un rambo? Buon tardi! Buon tardi! Buon tardi! Buon tardi nel harone! Buon tardi nel harone! Buon tardi! Buon tardi nel harone! Buon tardi! Vai che ha mai avuto qualcosa! Arrunti, arrunti! Ah, è ovvio. Adesso non abbiamo notato, non abbiamo detto come è molto bene. Buon tardi! Buon tardi! Voilà. Mi seguito è un sapa, grazie per la presenza di tutto il gente, nel atto di suma importanza al benesterno del paese. Mi seguito è il ministro Boce, il secretario del Stato José Carlos, il secretario del Stato Lesme, il presidente del Partito Luz, il presidente del PTG e il secretario nazionale di Modena G15. Che tutti i partiti che faccia parte della plataforma. Molto obrigado. Non mi se parlasse in atto storico per la seguente. È una plataforma denominata republicana per l'autopera del Paese. È una plataforma che cambia di divergenza dentro di Guinea-Bissau. È una plataforma che intendeva come per la povere di Guinea-Bissau, che è un'unica, o del Stato di Nassau. È una plataforma per la confusione. Non mi se parlare. Un paese che sta construito con unione, se non tenen unione o del TN agente per la prototiparare. E divergenza che sta che sta assistendo a Guinea-Bissau. E che non leva a Guinea-Bissau, non calma. A noi non c'è un'unica, non c'è un'unica, non c'è un'unica, non c'è un'unica, non c'è un'unica. Non c'è un'unica, non c'è un'unica, non c'è un'unica. Autore di Nassau, per la terra di RBI di Andra. Non c'è un'unica, di Passo di Chollet. Partidario. Perché a me, di PRS, a voi di PTG, non c'è un'unica, che ti è un'unica. Perché a voi di PTG, che io dirillui di PRAI, non c'è un'unica. Non c'è lì, che ne c'è lì, non c'è un'unica, 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 è un'unica, le portugno. Vieni qui sta bene, Samon! Porti sta bene, Samon! Voi che sta convivendo dentro di divergencia! Voi che sta convivendo o non? Non c'è nulla giù a niente per vedere se la scuola partidario. Non c'è nulla giù a niente per vedere se la scuola che fa non può indeterminare la persona. Perché la vita è stata fatta di divergencia, di idea, ma non c'è nulla potuto trattare un'unico permanente per vedere una divergencia di idea. Abaixo quello che sta pensando, Samon! Abaixo quello che sta pensando, Samon! Abaixo! Ano il nostro scuola è molto ben chiaro Mi pensi che il governo non ho firmato, quindi non ho firmato per vedere ma non ho firmato il governo E non c'è nulla giù a niente per vedere se la scuola Non c'è nulla giù a niente perichen un uomo che ha una volontària di lavorare per la nazione un uomo che può portare a Guinevissau, non è che sia un uomo è un managino di studio, non è un uomo è una plataforma republicana per difendere il interesse della nazione se senti ingresi la vostra prima di mia scuola vorrei stare a Greuze, vorrei fare un buon lavoro dia e noite, perché il lavoro sta a desenvolver il paese e il lavoro è un puro non va adiante non si è un uomo che non si è un uomo non si è un uomo, non si è un uomo vorrei fare un uomo, vorrei avversare perché è un uomo che è un uomo non mi si farà, non è una presenza legislativa è un uomo che è un uomo, ovviamente e la sua plataforma non si fa un uomo se non sai che sono 68 e poco, deputato ma non mi si scumbi da nuovo, non è un uomo con un uomo che è sempre giusto non da pizca o non vi incontra per non filare lo vai diante non si è un uomo certo perché è un uomo, voi è un uomo, non è un uomo che vuoi arre non si è un uomo, non è un uomo, non è un uomo, non è un uomo, non è un uomo che vuoi non è un uomo che vuole il cielo, non è un uomo che vuole il cielo non è un uomo che vuole il cielo grazie a voi 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 è palataforma, pura grego di Guineviglia non tergano imanes, non padri, è palataforma camarada ei, ome che tena pito, c'è per di guerra voi dubbi pitoria camarada voi firmare, voi firmare voi firmare non ti devo brincare ma calda perché non conto il giorno di avos tutti i dirigenti per i baffoli dei militanti partiti da avos, Boris e moi hermano moi hermano di PTZ con tutti i militanti con tutti i juventud con tutti i simpatizanti che non tenere con tutti i consegni, i camarada con tutti i non amici non c'è niente non guerra che non ti pide, zami non c'è niente non guerra che non ti pide, zami non c'è niente non pide, zami non c'è niente non pide, luta camarada, zami zami, zami, zami non ti pide non giornalisti non pide Noi, questo era dritto, camarada, che è che un'ora fazia tempo. Ninguém buca gostaria, camarada. Quattro si buco un'ora parte, gente non fa se buon'ora parte. Che è che manda non a Coba? Coba senza il Stadio da Cumbuguinè? Coba si va a metter a Cumbuguinè? Coba Libras e da Cumbuguinè? Che è che da Cumbuguinè? Unidade e Irmandade? Ami incontente. Aonde non ti fai da poco mania garanti? Alà di Manè, Carlos Cape. Com' proprio Jomar. Carlos Gomes, unior. E' che li ha no caripindi. Non per lì ne solo. Non per lì ne acqua, lì c'è Carlos. Che che si non, quello che non ha a oggi. Non caripindi, camarada. Ma non tem che si bucchè che Dio falava. Se Dio tira a alguien, non si è tal. Pior inimigo di Dio. Che che Dio falava? Che Dio falava bucana, bucana si è tal qui lì. Que lì è buon? Deus che tirau. E' decidì. Poi bucana come non? Ma non è che non hovi. Un camisio fa piada. Un camisio fa piada. Ma oggi, gente, vallò come sta tranquillo. No conto a voi, chi è qui ma sta tranquillo, chi è qui ma contente è oggi. E i dirigenti di PTZ è qui vim giunta con voi, irmão. No conto a voi, non è che. Ma oggi, come si è qui. Perché ogni cosa è in cabeça. A voi che cosa. Voi discutere, voi che c'è un entendimento. Con tutto che in qui fa parte. Voi cercare di più di Dio. Per Dio pagare a voi. Per Dio pagare a voi. Perché non è che il più buono nel mondo. Per Dio pagare a voi. un'unità di so che pude levar l'Oriano Delfin che tempo che parlare Delfin pistola o ministro non ho parlato a oggi vi qui Delfin kink che consiglia a oggi si sa vai di un marcio che è un ballo e qui Deus mi si voto Calvano questo è il nostro amico camarada non deve essere questo per cumbiare per tutti i camarada non faremo il obrigado per dargli un buon canto di gloria non è terminato per favore del comando obrigado per tutti i cibili ma non continuo a fare un'unità per che non sia per avere problemi tra noi per che non sia per avere problemi tra noi perché noi giunta già oggi tutto come si è buona vita se il proprio come si è giù di livello sociale non è coba, non è che se ma che è interessato che è che è interessato la nostra vittoria di per l'altra forma di per un pochino che è che è interessato che è che è interessato per non poter lembare la seconda volta secondo mandato scuola la mano la prima volta chi è che concorda con la prima volta con il mario con il presidente il reposo colone 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 cuccom Stevens pięki colone Viva Unità! Viva Plataforma! Viva Guinevissal! Viva Lombone! Viva Unità! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!